Perché per il comune di Ruvo di Puglia è importante questo cartellone di eventi? È importante perché come amministrazione fin dall'inizio abbiamo puntato sulla cultura, quindi questo è importantissimo perché come penso avete già visto il programma, tutto il programma si incentra sui momenti di incontro con ragazzi, di lettura, poi c'è una manifestazione musicale dedicata a Wanda Landowski ed inoltre ci sono tante presentazioni di libri, anche delle mostre di artisti contemporanei. Questa è la dimostrazione di tutta l'attività che svolge e continuerà a svolgere questa amministrazione per dare un'immagine all'esterno e poter portare a Ruvo un po' di turisti che farà ammirare le bellezze non solo culturali ma anche artistiche della nostra città. Il comune di Ruvo di Puglia manifesta ancora una volta attenzione verso la cultura, ma entriamo nello specifico, in che cosa consisterà questo cartellone di eventi? È un cartellone di 120 eventi in tutto. Ci sono degli eventi che abbiamo visto nascere con questa amministrazione e che stiamo consolidando. In particolare gli eventi clou saranno il concorso e festival Wanda Landowski che è un concorso e festival dedicato al clavicembalo. Non solo ovviamente però la musica antica ma anche la musica contemporanea e c'è un concorso di esecuzione e di composizione per questo strumento particolare che vede la partecipazione di musicisti da tutto il mondo, Giappone, Est Europa e così via. A questo si aggiunge un focus sulla lettura. La Puglia è fanalino di coda rispetto alla lettura. Tre pugliesi su quattro non aprono un libro da due anni. L'unico modo è quello di iniziare dai territori. In questo comune fino a quattro anni fa la popolazione non sapeva neanche dell'esistenza di una biblioteca comunale. Quindi abbiamo voluto partire da questa istituzione organizzando la Primavera della lettura che non è altro che una serie di laboratori e di incontri letterari per i più grandi finalizzata a cadenza settimanale, finalizzata proprio alla riscoperta di un luogo ma soprattutto dell'amore della lettura. C'è poi un progetto che vede coinvolte 40 classi circa che è confabulare ed è una gara di lettura tra le classi di ogni ordine e grado della città nelle quali i ragazzi si impegnano a leggere i libri e poi a fare delle gare di lettura alla presenza degli autori. Quindi insieme agli autori scopriranno le pieghe più particolari e avranno dei registri di comprensione dei testi sempre diversi in funzione dell'autore, degli insegnanti e così via. Grazie.